Musica Le marche restano in zona gialla da oggi nel conteggio dei positivi e rientrano anche i tamponi rapidi fatti in farmacia. Prende una multa a semaforo perché supera con l'auto la linea di arresto, la paga, ma non comunica chi era la guida. Scatta così la seconda sanzione, lo sfogo del signor Gianfranco che mette in guardia i cittadini in porto spropositato, ma fate attenzione. Aset Spa, oltre 6.000 controlli nel 2021 da parte degli ispettori ambientali, più di 600 i verbali emessi tra videosorveglianza e segnalazione ai vigili urbani. Caffè, cornetto e cappuccino, partiti rincari fino al 30% per il responsabile di CNA Bar. La situazione è drammatica, alle stelle i costi delle materie prime e raddoppiate le bollette di luce e gas. Montecatria da domani in piatti aperti con la nuova seggiovia, 6 piste con panorama a mozzafiato e il parco giochi sulla nera. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Le Marche restano gialle anche la prossima settimana grazie all'occupazione dei posti letto in area medica che rimane sotto la soglia del 30% ad oggi e al 26,8%. Per quanto riguarda i contagi, invece, oggi la Regione ha precisato che l'elevato numero dei nuovi positivi al Covid, più di 4.000 nelle ultime 24 ore, deriva da una circolare regionale con la quale si dispone che nel conteggio ora confluisce tutta la diagnostica effettuata con tampone molecolare e antigenico rapido, eseguito anche nelle farmacie convenzionate, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché nei punti drive, nei laboratori analisi e nelle strutture autorizzate e non solo nel caso di contatto con un soggetto positivo come avveniva in precedenza. L'Azur, inoltre, sta recuperando il tracciamento arretrato dei giorni precedenti. Doveva dichiarare che era alla guida quando è stata commessa un'infrazione, ma non vede il foglio e non lo compila. Dopo alcuni mesi gli è arrivata a casa una seconda multa di 307 euro, ridotta se pagata in cinque giorni. Il signor Gianfranco oggi ci racconta che cosa è successo per denunciare l'importo spropositato e mettere in guardia i cittadini. Entrato in funzione nel dicembre 2018, vista Red ha multato chi è passato col rosso, chi si è fermato sotto il semaforo, ma anche chi con le quattro ruote ha oltrepassato la linea bianca d'arresto. Quest'ultimo è il caso del signor Gianfranco Mascarucci, 65 anni, che nel mese di maggio è stato immortalato in via Papiria dal sistema di telecamere di controllo installato nell'incrocio del Ponte Rosso Afano con relativa sanzione inviata a casa ad agosto di 45 euro. L'importo è stato pagato e Mascarucci pensava di aver chiuso con questa violazione prevista dal codice della strada e invece non era così. Non volendo, non so, la fretta, lo stress del lavoro eccetera, non ho visto che c'era questo foglio abbinato dove io dovevo scrivere tutti i miei dati, cioè dichiarare che quel giorno ero io a guidare la macchina. Da agosto sono passati 4-5 mesi, mi è arrivata ieri una raccomandata dicendo che io non ho eseguito quel tipo di autocertificazione e mi consigliano una multa di 219 euro con due punti della patente, decortazione. Ma non solo, io penso che la befa sia questa anche, che entro 5 giorni se no è aumentata di altre 100 euro. Non so, capisco che il comune non ce la passa bene, ma poi penso che un tipo di infrazione del genere, io non l'ho mai sentito questo discorso dell'autocertificazione eccetera, almeno avvisa, abbi la cremenza, hai 4 mesi per poter avvisare il cittadino. Gianfranco ha provato subito a contattare il comando della polizia locale, ma gli è stato il risposto che ormai non si poteva fare nulla se non pagare la multa elevata. Questo importo si è spropositato rispetto al fatto? Si è spropositato, due è quasi una minaccia, perché se uno non si trova in condizione di pagare entro 5 giorni altri 100 euro, caricare addirittura un'infrazione di questo genere, perché non è che detto tra di noi ho messo sotto una persona, ubriaco eccetera, cioè solo per non aver scritto i miei dati, che tra virgolette capisco, nel bollettino della prima multa c'è scritto chi sono io, potevano anche risalire chi sono io eccetera. Capisco che quel giorno devo dichiarare che ero io che guidavo questa autovettura, però arrivare a questo livello mi sembra esagerato, ripeto mi dispiace molto, però non è uno sfogo, io l'ho fatto anche per avvisare i cittadini che se ricapita una cosa siete stati attenti perché nelle future multe, non dico a questi livelli, ci saranno queste autosificazioni. E noi abbiamo sentito la polizia locale di Fano e la comandante Anna Rita Montagna ci ha confermato che il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, i dati di chi era alla guida nel momento in cui è stata commessa la violazione. La normativa sulla patente a punti, ha precisato la comandante, è entrata in vigore nel 2003 e questa prevede la decurtazione di punti per alcune infrazioni, fra le quali il superamento con tutte le quattro ruote della linea continua di arresto. Quando la violazione non viene contestata sul posto, il verbale viene notificato a casa e si richiede al proprietario del mezzo di comunicare, appunto, che era alla guida. Se non fornisce i dati richiesti, senza giustificato e documentato motivo, viene sanzionato e in base a quanto previsto dal codice della strada, in questo caso scatta in automatico una sanzione di 291 euro più le spese postali, che se viene pagata entro 5 giorni è pari a 203,70. Proprio per agevolare gli utenti, ha precisato la comandante, insieme al verbale viene inviato un modulo per comunicare i dati del conducente. Lo scorso anno sono stati più di 6.000 i controlli effettuati dagli ispettori ambientali di Aset Spa. Centinaia le segnalazioni dei cittadini, ma anche i verbali emissi tra videosorveglianza e segnalazioni vigili urbani. Ci pensano i dati a dimostrare la costante presenza sul territorio da parte di Aset Spa. Sono stati infatti 6.023 gli interventi messi in atto nel 2021 dagli ispettori ambientali della Società dei Servizi nei Comuni di Fano, Fossombrone, Colli al Metauro, Pergola e San Costanzo. L'azione, come hanno spiegato in una nota, è prima di tutto preventiva. Infatti più di 1.600 utenze domestiche sono informate sul corretto conferimento dei rifiuti. A queste si aggiungono 327 enti, imprese e attività commerciali. Circa 2.000 in tutto i contatti di persona o telefonici per invitare gli utenti a mantenere un comportamento virtuoso o per spiegare loro caratteristiche e funzionamento dei nuovi servizi. Ma non solo prevenzione. Lo scorso anno Aset ha effettuato 25 appostamenti ed oltre 1.200 verifiche fotografiche. Quest'ultime sfociano spesso in sanzioni. Sono state 383 le foto allegate ai verbali. Numerose anche le segnalazioni scaturite dal monitoraggio delle telecamere e poi inviate alla polizia locale. In totale 241. Sono state 7 invece le segnalazioni ad altri organi di vigilanza. Se a questi ultimi due dati si aggiungono i verbali non scaturiti dalla videosorveglianza, frutto di ispezioni su rifiuti ma anche di appostamenti o per utenti colti in fragrante, il totale della documentazione inviata ai vigili urbani raggiunge quota 645. Fondamentali poi le segnalazioni dei cittadini, spesso tramite il numero verde. Lo scorso anno sono state 363, praticamente una al giorno. Inoltre Aset è intervenuta 105 volte in un anno per la rimozione di rifiuti e dopo i 1.000 composter controllati sono stati emessi 7 verbali per le regolarità nel compostaggio domestico con la revoca della riduzione della Tari. Infine sono stati oltre 3.300 i conduttori di cani controllati, in particolare per verificare il possesso dei sacchetti per la rimozione delle deiezioni degli animali. Cambiamo argomento, chi è abituato a fare colazione al bar sicuramente avrà notato un aumento dei prezzi. Per le associazioni di categoria il rincaro è stato inevitabile a causa dell'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime. Anche della semplice zona di zucchero adesso in questo momento non sarei in grado di dargli un prezzo. Visto messa qua sulla zuccheriera con tutto il bar acceso, con tutta la strumentazione accesa, se aveva un costo fino a due mesi fa di X adesso non saprei dargli più un costo. Colazione più amara per gli italiani. Da ormai due settimane bar e caffetteria hanno ritoccato i prezzi delle consumazioni, sia al bancone che al tavolo, ultimi a ricorrere agli aumenti. Dopo i panifici e le pasticcerie sono i baristi anche della provincia di Pesero-Urbino che hanno dovuto modificare i listini. A deciderlo sono stati gli stessi operatori che aderiscono alle associazioni Confesercenti, Confcommercio e CNA in una riunione unitaria della categoria. La motivazione sta nell'aumento dei costi generali e in particolare di quelli di luce gas praticamente raddoppiati. A questi si aggiungono i rincari delle materie prime, come caffè, latte e cacao, che stanno mettendo in crisi l'equilibrio fra costi e ricavi del settore. Il prezzo delle consumazioni rimane comunque libero in base a quanto stabilisce l'autorità garante per il mercato e la libera concorrenza. Infatti le associazioni di rappresentanza non possono in alcun modo condizionare o dirigere le scelte degli esercenti. È una situazione veramente direi assurda, perché adesso il nostro lavoro è praticamente bersagliato da rincari, da prezzi all'impazzata. Siamo stati colpiti, uso il termine colpiti perché mi sembra proprio la parola più giusta, dal primo di gennaio con i rincari nel nostro settore, a partire dal caffè, dal latte, dalle farine, tutto quello che quindi è inerente ai dolci, ai salati che proponiamo la mattina nelle nostre colazioni, con rincari dal 20 al 30%, grosso modo. E adesso, dulcis in fundo, c'è anche la mazzata delle utenze, che quindi vanno ad incidere enormemente sulle nostre gestioni, sul nostro conto economico dei bar. Quindi, ha proseguito Tars, il responsabile di CNA Bar, per garantire lo stesso servizio e la stessa qualità dei prodotti e per sostenere le nostre attività, dobbiamo necessariamente rivedere i listini. Che in questo momento si fa anche fatica a dare un prezzo alle cose, perché i prezzi sono talmente schizzati alle stelle, come poi si parla anche questi giorni. Stamattina sentivo in televisione l'utenza come potrebbe essere l'energia elettrica, il primo trimestre c'è un aumento del 135%. Già solo questo, figuriamoci noi che stiamo qui dalla mattina a proporre un servizio, qual è la colazione, tenendo illuminato tutto il sistema, sì, l'aumento del 20%, del 30% ci sta, ma sul rapporto anche alle altre utenze, alle altre costi che ci vengono a gravare, a questo punto anche noi non sappiamo come risolvere questa cosa, perché siamo veramente all'estreno delle forze. Poi, ha aggiunto Tarsi, ha inciso anche la pandemia con la carenza di personale e con l'affluenza in calo tra quarantene e isolamenti. Ora, specificato, questi rincari vanno al di là di ogni negativa previsione e non riusciamo a venirne fuori. Chiaramente sul caffè ha un'importanza maggiore, una rilevanza maggiore e anche una risonanza maggiore, però questo l'abbiamo fatto su tutti i nostri articoli, perché altrimenti da qui a 2, 3, 4, 6 mesi, qui la situazione è veramente drammatica. Non è né grave né difficile, è veramente drammatica. C'è da dire che gli aumenti sono cominciati adesso, quindi ancora la gente non si rende conto, siamo diciamo alle prime battute, però purtroppo per noi è inevitabilmente, cioè siamo l'ultima ruota del carro, c'è poco da fare, noi dobbiamo solo che aumentare perché diversamente non possiamo fare, lo vediamo con l'energia elettrica, lo vediamo con tutto ciò che è veramente aumentato e è triste, però c'è poco da fare. Noi purtroppo dobbiamo aumentare, poi chi c'è, c'è. Star qui a solo girare soldi o a perdere tempo, io penso che 10, 12, 15 ore al giorno qui dentro quando alla fine devono essere ripagate in qualche modo, cioè voglio dire non possiamo star qui solo a perdere tempo purtroppo. Al momento la gente viene comunque al bar? Per adesso sì, vabbè adesso con tutte le difficoltà del caso, c'è il covid, c'è un sacco di gente a casa in quarantena, comunque sì, ancora qualcosina stiamo facendo, vabbè c'è da dire che in questo momento molti bar sono chiusi, quindi quelli che ancora sono aperti sicuramente godono di più introito visto che molti sono chiusi, quindi anche quello che stiamo facendo non è molto veritiero, però c'è da dire che gli aumenti ci sono stati enormi, enormi, enormi. Un caffè adesso quanto costa un cappuccino? Che differenza c'è? Ma purtroppo il caffè è ancora diciamo l'articolo che ci permette di andare avanti, quindi il costo del caffè a noi ancora, a parte l'energia elettrica che è quasi raddoppiata, il margine c'è, non ci possiamo aumentare, se noi facessimo solo caffè nel nostro punto di affare staremmo benissimo. Purtroppo è tutto ciò che è intorno, è la pasta, la pasticceria, dolce, salata, pasticceria mignon, tutto il resto il margine di guadagno si è veramente limitato tanto. Fortunatamente abbiamo ancora il caffè che ci fa stare a gallo. Ogni tanto magari stai qualche mese senza andare a fare colazione aperitivo, ti rendi conto che ci rivai e i prezzi sono aumentati tanto. Adesso tantissimo no, però comunque qualche euro di differenza, qualche centesimo anche su una pasta fa la differenza comunque. Comunque non si rinuncia a fare l'aperitivo con gli amici? Assolutamente no. Per quanto riguarda invece collezione al bar ha notato delle differenze? Sì sì sì, in questi ultimi giorni, anzi questa settimana, è aumentato il caffè, è aumentato vari prodotti tipo i salati e compagnia bella. Sì sì sì. Lei comunque va tutti i giorni a fare collezione al bar? Sì sì sì. Non ci rinuncia? No. Beh sostanzialmente in questi ultimi giorni, anche essendo sempre spesso fuori casa, diciamo l'elemento del prezzo è diventato considerevole anche nelle piccole spese quotidiane che possono essere appunto anche nel caffè della mattina, anche insomma ai consumi quotidiani ecco. Come cambia il tuo carrello spesa? Sostanzialmente magari si fanno delle piccole rinunce, ad esempio anziché fare, abbinare il caffè, anche la merenda ci si basa solamente sul caffè. L'amministrazione comunale di Cogli al Metauro ha pubblicato un ulteriore bando per l'assegnazione di contributi, una tantum per il pagamento dell'Atari 2021, alle utenze non domestiche. La scadenza del bando è fissata al 31 gennaio e possono presentare domanda a tutte le attività che hanno subito una riduzione di fatturato nell'anno 2020 rispetto al 2019. Le somme a disposizione ammontano quasi 36 mila euro e il contributo massimo, concedibile per ogni beneficiario, è di 800 euro, considerando anche le somme ottenute con le agevolazioni già assegnate in bolletta o richieste entro il 31 dicembre dello scorso anno. Il contributo concesso sarà proporzionale alla riduzione di fatturato registrata e dichiarata. E adesso il Monte Catra, che è pronto ad accogliere gli sciatori, ma con tante novità. In questo fine settimana verrà inaugurata la nuova seggiovia Quadriposto, sei le nuove piste con panorama mozzafiato e un parco giochi sulla neve. I dettagli nel servizio di Filippo Pucci. È tutto pronto nel compressorio sciistico del Catria, la cima più alta della provincia pesarese, per accogliere i tanti appassionati degli sport invernali e della montagna. La montagna colorata di bianco, stazione sciistica completamente rinnovata e numerosi servizi. È tutto pronto nel compressorio sciistico del Catria, la cima più alta della provincia pesarese, per accogliere i tanti appassionati degli sport invernali e della montagna. Dopo la neve dei giorni scorsi e il grande lavoro per preparare al meglio il comprensorio, grazie anche all'utilizzo del nuovo gatto delle nevi con il verricello, da sabato 15 a lunedì 17 gennaio, il Catria spalancherà le porte per tre giorni all'insegna del divertimento e del relax. Tante novità per una stazione sempre più moderna e accogliente, dalla seggiovia Triposto a quella Quadriposto, che nell'occasione verrà inaugurata sei nuove piste per un totale di 12 chilometri, da cui godere un panorama di rara bellezza che spazia fino al mare Adriatico. Sarà disponibile inoltre la cabinovia in funzione dall'anno scorso, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1.400 metri e che permette, in tutta comodità, senza utilizzare l'auto, di salire in alta quota, dove ad accogliere gli ospiti c'è il rifugio Cotaline. Per accedere agli impianti, però, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e avere il Super Green Pass. Poi, per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie, il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche. È suddiviso in tre zone, in base alle fasce d'età, con le piste dedicate alle discese sui gommoni. Attivi anche il servizio di noleggio di sci, ciaspole e snowboard, la scuola di sci con i maestri e la possibilità di fare escursioni. L'apertura della cabinovia, della seggiovia Triposto-Cotaline e della quadriposto Travarco domani è in programma alle ore 8.45. Dunque, un fine settimana per divertirsi in tutta sicurezza, immersi nella natura. E vi annuncio che lunedì riparte Primo Cittadino, sarà nostro ospite il sindaco di Fano Massimo Seri. In questo cartello vedete tutti i numeri di riferimento per intervenire in diretta. Tra poco, invece, trasmetteremo uno speciale sul calendario Midor dedicato alla città di Urbino. Buona serata a tutti voi, arrivederci.